Musica Lotta ai piromani, la regione fa il punto sugli incendi nella sede della cittadela regionale Il presidente Roberto Occhiuto e l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo illustrano i risultati della campagna antincendio di quest'estate Investite più risorse, utilizzate nuove tecnologie e istituito un vertice operativo interforze Salvini per la Calabria, lavoro e infrastrutture, comizio del leader della Lega, Reggio Calabria e Corigliano Rossano Gli slogan? Stop sbarchi e guerra sulle bollette, spero che qui, dice, si rivoti per le comunali Provincia di Catanzaro, le grandi manovre dei partiti La ricerca del candidato alla presidenza continua Fibrillazioni nel centrodestra con tanti pretendenti Tra cui il sindaco di La Mezzia Terme Paolo Mascaro Varie le frecce all'arco del PD, si vota il 28 settembre Cerchiara, leno gastronomia, grande attrattore turistico Il centro storico ospita le aziende che si contraddistinguono per la produzione di eccellenze alimentari E le cantine del territorio Buonasera, ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'altro Corriere Tg L'apertura dell'edizione serale dedicata alla politica ma soprattutto agli ottimi risultati Raggiunti per quanto riguarda la campagna anti-incendio Questo quanto annunciato quest'oggi alla cittadella regionale Nel corso di una conferenza stampa dal governatore della regione Roberto Chiuto E dall'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo Beh, è andata molto bene, credo che i cittadini se ne siano resi conto Perché il numero di incendi registrato quest'anno non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dell'anno scorso Abbiamo avuto il 55% in meno degli incendi L'80% in meno delle superfici incendiate Non nasconde la propria soddisfazione Roberto Chiuto nel presentare il bilancio dei risultati Ottenuti dalla campagna anti-incendi portata avanti dalla regione nel corso dell'estate 2022 Una campagna nella quale sono state investite più risorse, utilizzate nuove tecnologie Ed è stato istituito un vertice operativo con il Dipartimento regionale all'agricoltura Calabria Verde, la protezione civile, gli operai forestali, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali Le associazioni di protezione civile, i rappresentanti dei consorsi di bonifica Dei parchi nazionali e regionali, delle organizzazioni agricole e infine delle associazioni di volontariato Ho mutuato un'idea che non era di uno di centrodestra ma era uno di centrosinistra, di Perna Che da Presidente del Parco dell'Aspromonte anni fa decise di retribuire le associazioni Non in ragione del numero degli spegnimenti ma in ragione del minor numero degli incendi Abbiamo fatto la stessa cosa sia per gli operai forestali che per le associazioni di volontariato E i risultati sono davanti agli occhi di tutti Siamo orgogliosi anche del senso civico dei calabresi In un contesto generale di piano antincendio che ha visto misure di repressione naturalmente Lo avete visto attraverso un controllo più efficace del territorio Con l'arma dei carabinieri innanzitutto ma anche attraverso l'utilizzazione di nuove tecnologie Ma anche attraverso l'impegno di tantissima gente Che ha tutelato il proprio patrimonio boschivo e forestale Credo che questo sia il messaggio più bello che la Calabria stia lanciando Una Calabria socialmente impegnata nella tutela del proprio territorio E guardiamo insieme queste immagini Ha piccato un incendio ma il drone ha ripreso tutto ed è stato incastrato Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Roberto Occhiuto Che ha pubblicato il video di un piromane in azione a Crotone La nostra squadra ha detto Occhiuto è riuscito ancora una volta a bloccare sul nascere L'ennesimo incendio il signore in questione La targa delle sue auto sono già stati segnalati alle autorità competenti Toleranza zero Questo è il messaggio che Occhiuto ha anche avuto modo di ripetere questa mattina In occasione della conferenza stampa Continuiamo con la politica per passare alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre La campagna elettorale ormai entra nel vivo e i big dei partiti arrivano in Calabria Domani è attesa a Cosenza alle 18.30 in piazza Kennedy Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia Ma intanto Matteo Salvini leader della Lega è ritornato in Calabria per un mini tour Noi l'abbiamo intercettato a Corigliano Rossano Inizia da una torre da domenica di fine agosto il nuovo tour elettorale di Matteo Salvini in Calabria In vista del voto fissato per il prossimo 25 settembre E da Corigliano Rossano il leader della Lega ha ripreso il percorso lasciato a metà solo qualche mese fa E che mira a rinsaldare vecchie e nuove amicizie sul territorio calabrese Ma soprattutto ribadire i punti cruciali di una campagna elettorale che si preannuncia infuocata A cominciare dal tema più importante, quello cioè legato all'emergenza gas Anche a campagna elettorale in corso perché il governo è in carica Per trovare i soldi necessari per lo stop all'aumento delle bollette Durante il Covid ci sono stati sei scostamenti di bilancio per un totale di 165 miliardi di euro Qua rischiamo un'emergenza simile Non con i morti negli ospedali per fortuna Ma con la morte di migliaia di aziende, di negozi e di imprese Quindi l'urgenza oggi, domani, dopodomani è copiare i francesi Io dico a scuola ogni tanto qualcuno copiava da quello più bravo Se il governo francese è stato più rapido e per tutto il 2022 garantisce che gli aumenti non possano superare il 4% Copiamo i francesi Certo io copierei i francesi fino in fondo Loro hanno 50 reattori nucleari funzionanti e sei nuovi reattori nucleari in costruzione Il tour calabresi di Salvini ha toccato poi Vibo Valencia e la Mezzia Terme fino a Reggio Calabria E qui che stamattina il leader del carroccio nel consueto Bagno di Folla Ha lanciato i buoni propositi della Lega per il futuro della nostra regione A cominciare dal classico tema dei migranti fino alla scelta dei candidati Gli altri candidano personaggi noti televisivi Noi candidiamo persone meno note televisivamente parlando Ma che so che dal 26 settembre in Parlamento lavoreranno come matti Panciaterra dalla mattina alla sera Il prossimo 25 settembre e mandiamo a casa una sinistra Che a Reggio e a Roma ne ha combinati di tutti i colori La prossima volta parliamo del nuovo sindaco di Reggio Promesso Ed è pronta anche la squadra di noi moderati Presente ovviamente alle prossime elezioni politiche Questa mattina alla riunione alla Mezzia Terme Perché questa coalizione? Intanto perché questa legge elettorale obbliga a stare insieme Per provare ad essere presenti in Parlamento C'è la necessità di raggiungere il 3% È una legge elettorale secondo me improbabile Completamente improbabile E quindi stiamo insieme Avendo naturalmente dei punti importanti in comune Perché poi partiamo da posizioni moderate Tutte e quattro i componenti di questa lista Il punto di partenza di noi moderati È dunque la scelta indotta dalla legge elettorale Con in più l'obiettivo di mettere assieme Forze liberali e moderati E semplificare l'offerta politica Stamane alla Mezzia Terme la conferenza stampa Per declinare la proposta in chiave nazionale e regionale Dei quattro componenti Italia al centro, noi con l'Italia, Udc e Coraggio Italia E questa scelta è ancora più importante Perché queste sono quattro anime liberali, popolari Che fanno riferimento a quel mondo moderato Che serve nel centro-destra E poi ovviamente la strategia di un impegno politico E parlamentare con due obiettivi Crescita e spesa pubblica Siamo stati costretti a questa scelta Innanzitutto dalla decisione del Movimento 5 Stelle Di Conte di mettere fondamentalmente in crisi Il governo sul rigassificatore di Roma E questo è un motivo in più Che ci induce ad avere una nostra particolarità All'interno di questa campagna elettorale Noi in un momento come questo In cui appunto si scontano tanti errori Fatti dalla politica in passato Vorremmo essere i garanti della crescita E i guardiani della spesa pubblica Siamo qui perché innanzitutto la nostra coalizione Faccia le cose serie Si candidi a governare l'Italia Senza promesse irrealizzabili Continuano le fibrillazioni Per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente Della provincia di Catanzaro Ci sono dei mal di pancia nel centro-destra Con un nome su tutti Che spicca quello del sindaco di La Mezzia Terme Paolo Mascaro Varie invece le frecce nell'arco del PD Lo ricordiamo si vota Il prossimo 28 settembre Vediamo Se non bastasse la campagna elettorale Per le politiche del 25 settembre Nell'area centrale della Calabria Ed in particolare nella provincia di Catanzaro I partiti sono chiamati ad una prova in più Il 28 settembre infatti La provincia catanzarese sarà chiamata al voto Per scegliere il prossimo presidente A votare saranno sindaci e consiglieri comunali L'elezione rappresenterà uno snodo politico Di notevole significato Ed è quindi già tempo di grandi manovre Nelle due principali coalizioni Fibrillante viene definito Dai ben informati Il clima nel centro-destra Interessato alla candidatura Sarebbe il sindaco di La Mezzia Terme Paolo Mascaro In Lizza potrebbe esserci anche Amedeo Mormile Sindaco di Soveria Simeri Vicino alla presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso Punterebbe alla candidatura Anche l'attuale presidente Facente funzioni della provincia Fernando Sinopoli Sindaco di Centrache D'Italia del centro Quadro meno confuso Nel campo del centro-sinistra Che potrebbe calare sul tavolo Molti nomi Da quello del sindaco di Soverato Daniele Vacca Vicino al consigliere regionale del PD Ernesto Alecci A quelli di Elisa Sacco Sindaco di Borgia Sempre del PD Ed anche di Domenico Giampa Sindaco di San Pietro Ammaida E segretario provinciale Democrat Nel PD e nel centro-sinistra Comunque si attendono anche le mosse Del neo-sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita considerando il notevole peso del comune di Catanzaro Entro l'8 settembre bisognerà chiudere i giochi Ed esprimere il candidato alla presidenza della provincia di Catanzaro Dalla politica alla pagina della cronaca Le mani dell'Andrangheta sulla Sardegna Il pentolone è stato scoperchiato dall'inchiesta Platinum Dia Vediamo Da San Luca alle rive del lago di Costanza Dal Brasile alla Sardegna Il passo è breve La storia criminale di Andrangheta è senza confini L'unico passaporto che si riconosce È quello degli affari roschi Da consumare con il sangue La spregiudicatezza più cruenta Fino a qualche tempo fa sembrava impossibile Che proprio la Sardegna Considerata impenetrabile e repellente alla criminalità organizzata Potesse diventare protagonista di questo universo criminale Eppure i legami tra San Luca e l'Isola sono più forti che mai Prova nella recente inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia Denominata Platinum Dia È il 5 maggio dello scorso anno Quando scatta una delle operazioni più importanti Della Direzione Investigativa Antimafia Ad essere intercettati due esponenti della Andrangheta Posizionatesi tra Sasseri e Alghero Uno in carcere e l'altro agli arresti domiciliari Finiscono in carcere 33 personaggi di primo piano Con 65 indagati Tra Cagliari e Alghero raggiungono le patrie galere Sette soggetti sardi Tutti basisti dell'infiltrazione andranghetistica dell'isola Una aretata in grande stile Che però sull'istante non aveva ancora disvelato Il cuore della strategia criminale Dentro le strutture penitenziarie sarde Raccontano poi i verbali degli inquirenti Iniziano i primi contatti Tra la malavita locale e gli esponenti di spicco Delle grandi organizzazioni criminali Dalla mafia alla Camorra Dalla Sacra Corona Unita all'Andrangheta Secondo gli inquirenti dunque Una delle più imponenti organizzazioni Del narcotraffico al mondo Aveva pianificato di spostare il baricentro Dalle Sicilii alla Sardegna E intanto a Uta nel carcere delle pendici di Monte Arcosu Si prepara il nefasto arrivo di altri 92 capi mafia Nella terra dei Nuraghi regna un silenzio maledetto Quasi un benvenuto ai signori di San Luca Ancora spazio per alcune notizie di cronaca Il sindaco di Ciro Marina E presidente della provincia di Crotone Sergio Ferrari Da qualche giorno è protetto da una scorta La misura di protezione è stata disposta A seguito di minacce Che sarebbero state indirizzate a metà luglio Al primo cittadino E che con tutta probabilità Riguarderebbero la sfera familiare e la sua persona Nulla di più al momento Trapela sulla vicenda Ovviamente vi terremo Adeguatamente informati Ed è avvenuto alle prime ore di questa mattina Il quindicesimo sbarco di migranti Nel mese di agosto al porto di Crotone Sono state 252 Le persone arrivate a bordo di un peschereccio Intercettato dalla Guardia di Finanza E dalla Capitaneria di Porto A poche miglia da Capocolonna Le unità navali hanno scortato L'imbarcazione al porto A bordo del peschereccio In gran parte c'erano uomini provenienti Dalla Pakistan e da Afghanistan Tra loro 10 minori non accompagnati E 3 donne E adesso cambiamo decisamente argomento Ci spostiamo nel cuore del Pollino A Cerchiara Dove si è tenuta una seconda edizione Di un evento dedicato al pane e all'olio Un evento che mette al centro l'enogastronomia Come grande attrattore turistico Un percorso di delizie gastronomiche E bellezze architettoniche Ha accolto i partecipanti Alla seconda edizione di Cerchiara Capitale del pane e dell'olio L'evento realizzato da Lavinium SRL In collaborazione con l'amministrazione comunale Guidata dal sindaco Antonio Carlo Magno Si è svolta nel centro storico Di Cerchiara di Calabria Protagonisti assoluti I marcatori identitari Tra gastronomia, tradizione e artigianalità Nella seconda edizione dell'evento Che già lo scorso anno ha riscosso Grande successo di pubblico I vicoli e le strade del centro storico Hanno accolto gli stand Delle aziende enogastronomiche Che hanno risposto all'appello Del comune e degli organizzatori Questa offerta serve a rafforzare ancora di più Questo nostro carattere identitario E soprattutto la peculiarità Di un borgo antico Che è testimone di tantissima storia Che vuole sempre attrarre E consegnare ai posteri Le proprie ricchezze I propri tesori E la propria tradizione Che non è solo tradizione culinaria Ma è anche tradizione culturale Etica e umana Noi ci auguriamo Che nella profonda crisi In cui versano questi borghi Possa essere sempre La speranza di Non demordere Nel tenere vive queste tradizioni È un saper fare Che pervale tutte le vie del borgo Che devono tornare a vivere Come avviene in questi eventi Che realizziamo Utilizzando appunto il centro storico Come contenitore d'eccellenza Il pane Non vogliamo sia solo veicolo Per questi happening Per questi eventi Sparsi lungo tutto Come dire L'arco dell'anno Ma che sia anche un'opportunità Per i più giovani E non solo per Come dire Sperimentare E sperire nuove forme Anche di business Perché comunque Lo street food Che stasera abbiamo portato Per strada Parte dalla tradizione Di Cerchiara Per diventare qualcosa di diverso Per diventare appunto Un cibo moderno Un cibo Che può parlare Il linguaggio dei più giovani La pagina dello sport Calabresi di Serie B In campo La regina Trionfa E cala il poker Alla Ternana Una vittoria robusta E convincente Per gli uomini Di mister Inzaghi In sala stampa però E' sceso il suo vice D'Angelo Lo ascoltiamo Noi sapevamo Che su Tirol Sarebbe stato Molto compatto Abbiamo visto Che ha perso Le altre partite Ma immeritatamente E' una squadra Organizzata Noi dovevamo Fare dell'intensità Un po' Iniziare la partita Con determinazione Intensità Cercare di metterli Alla corda E stare attenti Alle loro ripartenze Siamo partiti bene I ragazzi Siamo partiti bene E quindi poi Logicamente Siamo stati avvantaggiati Anche dall'espulsione Loro sono rimasti in dieci Però penso che La gara La stavano interpretando Nel migliore dei modi Sappiamo Che dobbiamo lavorare Sappiamo Che noi vogliamo lavorare Con l'entusiasmo E quindi oggi Questo è proprio Un pieno di entusiasmo Che ci fa bene Però manteniamo sempre I piedi a terra Il Cosenza invece Esce sconfitto Dalla partita Disputata Al Tardini Di Parma 1-0 Il risultato finale Con i padroni di casa Che sono passati Grazie al gol Di Roberto Inglese Il Cosenza dunque Esce con una sconfitta Ma è soddisfatto L'allenatore Dei Rosso-Blu Dionigi Al termine Della gara Lo ascoltiamo Penso che la partita L'abbiamo fatta Noi il primo tempo Come manovra Come Intensità di gioco Costringendo il Parma A difendere basso E partire di ripartenza Poi il secondo tempo Siamo entrati ancora Molto bene Abbiamo sferrato il gol Di nuovo E poi abbiamo avuto Dieci minuti Dove Il Parma è venuto fuori Ci ha Ci ha creato Ci ha pressato Ha spinto Sulla qualità Dei suoi giocatori E poi dopo Cambiando sistema di gioco Ci siamo riorganizzati Abbiamo provato A pareggiare la partita Quindi tante cose positive Di un Cosenza giovane Di un Cosenza Che viene a giocare A viso aperto A Parma Penso che se avessimo Tenuto il pareggio Non ci sarebbe stato Niente da Da dire Abbiamo subito Purtroppo Troppo sui calci piazzati La fisicità di questa squadra Che ha giocatori Sicuramente di Serie A Le loro occasioni Sono venute da quello E quel salvataggio Sulla riga Sul colpo di testa Di un mio giocatore Era questo Il nostro ultimo servizio Grazie come sempre Per la cortese Attenzione Buonasera a tutti voi E buon proseguimento Con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti